ci fu questa punizione verso la fine della partita, proprio l'ultimo minuto andai sulla palla e ho detto io adesso calcio vada come vada vada come vada, naturalmente non era neanche nella mia posizione ideale perché insomma ero dalla parte opposta e quindi niente, fischia l'arbitro ho convinto al 100% di ho detto adesso faccio gol, faccio gol, faccio gol ho calciato, ho calciato bene ho calciato molto bene, quindi faccio gol, vado ad esultare e poi finisce la partita quindi tutto ciò che potevi chiedere era successo tutto perfetto, esatto, quindi no no, anche quella lì poi farevo le 20 godi insomma con tante persone che c'erano poi fai gol al Milan che tra l'altro in Serie A ne ho fatti 8 di gol due parole ne ho fatti al Milan infatti voleva arrivare lì nel senso che poi anche quel di Vorne ha fatto gol al Milan quindi la vivevi forse anche come una conferma sì, diciamo, sai uno magari ha la sua scheramanzia quindi quando feci il gol lì ho detto beh dai, magari il Milan mi porta bene a far gol mi porta bene a far gol